Nuovi giochi, vialetti e lampioni e poi ancora arriveranno anche le telecamere. Il Parco Pertini è pronto per tornare alla sua bellezza e funzionalità. È infatti partito l'intervento di riqualificazione dell'area verde. Saranno lavori di riqualificazione complessiva del parco, eseguiti in due lotti funzionali, uno da 250 e l'altro da 330 mila euro, che prevedono il rifacimento di tutti i vialetti, delle illuminazioni, delle tre aree giochi, della piazza centrale per gli spettacoli, della recinzione in metallo, quindi non più la rete che vediamo oggi su Via Signorelli e Via Giotto, interventi sulle alberature, quindi una riqualificazione complessiva, compresa la demolizione di questa opera d'arte moderna, futuristica degli anni Ottanta, che francamente aveva poco senso che rimanesse in piedi, anche se tanti di noi della mia età ci abbiamo giocato da bambini, però non aveva veramente più senso di esistere. Quindi vedremo nel corso dell'autunno il termine dei lavori e il parco sarà veramente riqualificato in modo molto, molto importante. Verranno installate anche delle telecamere? Verranno installate otto telecamere agli accessi, in modo tale da monitorare chi entra e chi esce. Non è possibile presidiare tutto il parco perché la vegetazione è tanta e non riusciremo a vedere ogni angolo, però gli accessi verranno controllati tutti. Una riqualificazione che passa anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento dell'edificio dove negli anni aveva trovato spazio il bar. È uscito il bando qualche tempo fa, è arrivata un'offerta, pare che sia una bella offerta, una bella proposta da parte di gestori che prevederanno un ampliamento e una gestione 12 mesi all'anno in modo tale da dare un servizio ai tanti cittadini che frequentano il parco, ma anche un presidio effettivamente per avere la garanzia che ci sia sempre qualcuno che bene o male controlli.